Buonasera, sono Claudio Peppoloni, consigliere del WWF Litorale e Laziale. Questo consenso, questa riunione mi sembra che sia proprio opportuna per chiarire alcuni aspetti e mettere dei paletti nuovi, speriamo, per una futura gestione dell'area del litorale. Non dimentichiamo, come WWF lo voglio ricordare, il litorale romano rientra nella riserva naturale del litorale romano e quindi necessita di un riguardo particolare. Per quello che riguarda invece l'aspetto proprio specifico di questa riunione, che verte sulla gestione degli stabilimenti balneari, degli accessi al mare, voglio rappresentare un'istanza, perché come WWF noi ci preoccupiamo di difendere la natura e l'ambiente. Ora proprio a ridosso di ossa abbiamo un ambiente dunale che è di una preziosità unica e che subisce una pressione antropica devastante proprio per il fatto che nei 9 km di litorale romano, che ricadono poi nel decimo municipio, tutta la parte che è antistante il centro abitato è occupata da stabilimenti. Quindi i cittadini, sia residenti ma sia le migliaia e migliaia di balneari che usufruiscono del servizio, si riversano dove possono e quindi questo porta ad un degrado maggiore di quelle aree che invece andrebbero preservate nel modo più assoluto. Poi naturalmente ci si mettono un po' anche i concessionari che non sempre operano negli ambiti delle concessioni appunto assegnate loro e di questo pure abbiamo una grande esperienza avendo fatto molti approfondimenti, molti accessi agli atti, sulle consistenze degli stabilimenti, dobbiamo dire che i risultati sono piuttosto scoraggianti.